cari amici benvenuti un altro episodio della affascinante storia di romantica quindi abbiamo visto come è caduta sono caduti il re di roma l'ultimo re di roma tarquinio superbo è stato cacciato da questa insurrezione popolare da cui scintilla è stata l'offesa alla matrona lucrezia però dicevo che qualcosa covava sotto la polvere in realtà c'è questa sorta di rivincita di tutta quella che è la l'antica nerbo romano che erano i sabini latini contadini e pastori che un po si ribellano contro i etruschi che sono gli imprenditori i navigatori e tutta la parte la borghesia in un certo senso che hanno fatto anche cose hanno reso roma grande hanno reso roma quasi imperiale dominatrice di una gran parte del lazio di una parte della della campagna c'è questa sorta di restaurazione restaurazione con con questo abbiamo visto questo lucio giugno brutto questo regalate brutto lo scemo il il figlio di servio tullio persona che estremamente dura inflessibile abbiamo visto che quando i suoi due figli hanno si sono spinti a ad accettare la restaurazione il ritorno di tarpino superbo addirittura assiste alla loro fustigazione è la loro decapitazione quindi uomo veramente inflessibile duro come poi vedremo essere questa una caratteristica dei romani e l'altro suo compagno l'altro console perché da questo momento non c'è più un re ci sono due persone che dominano che comandano a roma cioè quindi il potere condiviso cosa che non è nuova in realtà nella storia perché per esempio a sparta c'erano due re che comandavano uno alternato con l'altro a roma invece c'è ci sono questi due consoli questi due consoli eletti dal popolo dai comizi centuriati e c'è una complicatissima legge che che atta ad impedire che questi che uno dei due consoli diventi troppo ambizioso e possa farsi re e d'altra parte brutto questo personaggio come dicevo estremamente arcigno e crudele vuole che chiunque sia sospettato di voler restaurare la monarchia sia ucciso senza sia ucciso da chiunque senza bisogno di processi e così via quindi si instaura questo questa questa usanza diciamo che porterà poi ad uccidere nella storia romana prima molti senatori molte persone che magari sono ritenute scomode e poi che porteranno anche all'uccisione di giulio cesare che effettivamente tra l'altro voleva farsi re e quindi dico che all'inizio per scongiurare questo scrivano queste due personaggi due due consoli che restano in carica tra l'altro un anno solo uno può decidere le cose ma l'altro può mettere sempre il vetto e tra l'altro nell'ambito di questo anno in cui comandano uno comanda per un mese uno comanda per l'altro mese addirittura in certe circostanze uno comanda un giorno uno comanda l'altro giorno vedo che questa cosa è una cosa catastrofica perché per esempio nella battaglia di canne contro annibale proprio la l'alternanza del potere due di emilio di varrone dei due consoli porta poi alla sconfitta perché quello che aveva deciso un console veniva ribaltato all'altro corso quindi è sicuramente una una situazione di protezione democratica ma è veramente sconvolgente dal punto di vista dell'efficienza del potere per in parte correggere questo concetto viene anche creata la carica di dictator cioè ci può noi se ci sono delle situazioni particolari pensiamo poi sempre a tempo di annibale abbiamo già parlato quinto fabio massimo il temporeggiatore era stato eletto dittatore è colui che per sei mesi può svolgere può ricoprire il potere senza nessun tipo di controllo in situazioni del tutto del tutto importanti straordinarie e quindi viene creato questo questo complicato sistema attraverso il cui non si pensa di garantirsi dal fatto che possa tornare un re come era stato poi tarquinio superbo re molto odiato nella sua nella sua ambizione il suo abuso del potere e poi viene anche riformulato rimesso in ordine il senato il senato era in realtà questa assemblea di di anziani che affiancava il re nel suo nel suo potere che erano normalmente eletti dal dal re invece qui adesso i senatori vengono vengono invece eletti dai dei comizi centuriati sono dei comizi centuriati sono espressioni all'età della della aristocrazia romana e anche qui vengono essere delle regole questi questi senatori doveva essere persone oneste corrette non potevano impegnarsi in operazioni lucrose in patria né commerciale con l'estero ecco dovevano essere personaggi che non dovevano guadagnare nulla dalla politica erano quindi i nostri politici di oggi sarebbero contentissimi stiamo parlando di abolire i vitalizi ebbene i senatori non avevano diritto né a stipendio né a vitalizia però vedremo come nella storia è successo e magari succederà anche anche da noi quando si aboliranno completamente i vitalizi questi questi senatori poi l'abbiamo visto con la successione della storia trovano sempre il modo in mezzo per aggirare queste queste regole ecco questo è il concetto e il senato diremo a un comunque questi questo questa assemblea di persone che abbiamo visto devono essere estremamente corrette hanno quella che che i latini chiameranno autoritas cos'è l'autoritas l'autoritas latina è qualcosa che più di un consiglio e meno di un ordine questa è la definizione e questo affianca i due consoli questa questa grande autorità dei senatori che poi in realtà rappresentano la la nobiltà contadina di roma ecco che questi e questa roma nuova che nasce adesso è una roma completamente diversa dalla roma per cosiddette imperiale degli ultimi tre re etruschi e addirittura vengono vengono bloccate le opere pubbliche un po come è stato anche in italia cioè è strano come la storia si ripete vengono bloccate tutte le opere pubbliche cioè tutti i grandi palazzi le grandi strade che anche tarquinio superbo stava costruendo vengono bloccate soprattutto vengono bloccate quelle di tarquinio non tanto di servio tullio che era visto come un re democratico quanto quelle di tarquinio superbo in realtà molte cose erano anche belle erano importanti innovative come il completamento della cloaca massima eccetera eccetera e poi vengono però anche bloccate le distribuzioni delle terre ai cittadini le terre per esempio dei popoli conquistati non state in parte assegnate cittadini romani vengono bloccate anche questo quindi tanti tanti cittadini romani perdono la loro terra perdono le loro case e perdendo tutto tornano a roma tornano a roma cercando lavoro nella città però in città non c'è assolutamente più lavoro perché non si fanno più opere pubbliche quindi vediamo che anche qui si vuole risanare il bilancio in un certo senso si vuole anche evitare che ci sia la corruzione lo vediamo anche in italia questo sta succedendo si vuole evitare che ci siano persone che prendono delle tangenti sui lavori pubblici che i senatori guadagnino eccetera eccetera però questo porta a il blocco di tutta l'attività economica porta a un impoverimento pazzesco quindi veramente si fermano le costruzioni dei palazzi si fermano i commerci i locali i locali pubblici chiudono non ci sono e quindi si 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 piomba in una grande momento democratico in un grande momento di austerità in un grande momento di giustizia ma anche un grande momento di povertà e in questo momento di povertà e così via è logico che qualche persona pensa di richiamare talquino il superbo e talquino il superbo in realtà aveva le sue spie e cerca di e vede che ci potrebbe essere anche la possibilità di tornare a roma di tornare a roma e lui prova a sondare per esempio chiedendo la restituzione dei dei suoi dei suoi beni no e tra l'altro il il console il primo console che i primi due console sono stati come dicevo il brutto colatino no cioè no talquino colatino che era poi il vedovo di lucrezia e brutto appunto questo colatino che era parente comunque dei dei talquini diceva si restituiamo pure tutti i beni a talquino il superbo in un certo senso no quindi va incontro a questa a queste richieste ma naturalmente l'inflessibile brutto il l'inflessibile giugno brutto si oppone a questo e qui l'emmo come colatino poi si dimette e viene viene abbiamo sostituito da un altro console pubblico valerio che poi passerà alla alla storia come il scorcio parale di pubblicola che vuol dire amico del popolo perché cerca di fare tutta una serie di di riforme importanti impostate sempre su questo aspetto democratico che vadano a favorire la democrazia che siano contro la il ritorno direi e come dicevo talquino il superbo quindi visto l'impossibilità di di tornare a roma grazie all'approvazione del popolo e vista l'impossibilità di suscitare una rivoluzione a roma che richiami gli etruschi che richiami anche e che sia appoggiata da chi era nostalgico della della ricchezza e che non e che non ami tanto questo questa democrazia da da pane e cipolle quindi si ritira e va a chiedere aiuto a al re di chiusi a uno delle dei dei luco dei lucumoni i lucomoni erano i governanti delle città etrusche c'erano circa 11 12 città che tra loro non erano uniti erano uniti solo da ragioni religiose ma erano la buenzia politico indipendenti e questo creava una loro grande debolezza abbiamo visto già tarquinia vedremo ecco qui chiusi è una città molto importante e tra qui nel superbo va a chiedere aiuto a porsenna a porsenna che il il lucumone di chiusi e porsenna in realtà c'erano dei buoni argomenti perché conquistando roma per esempio e riportando ma detto archivio il superbo sul sul trono di roma avrebbe potuto avere la strada libera per poter portare il suo dominio e consolidare il suo dominio in campania dove gli etruschi si fronteggiavano come abbiamo in parte già visto con i greci con la magna grecia che occupavano alcune città importanti tra cui abbiamo visto cumano ecco allora porsenna va arma un suo esercito e tra l'altro anche le città si allea con i latini e con e coi sabini cercando i subillari contro roma e allora da una parte arriva porsenna dall'altra arrivano i sabini di latini e roma è in una grande difficoltà viene attaccata diremmo in un momento molto importante ci sono delle cose bellissime sono quegli esempi di che leggiamo un po nella nella storiografia nella leggenda del romano in un certo senso perché che troviamo troviamo dei personaggi molto interessanti vedremo come in realtà quando c'è una una sconfitta un popolo viene sconfitto si tende sempre poi nella storiografia a correggere poi la sconfitta cercando di di tirar fuori degli eroi il popolo invece vince tutto sommato non ci sono non c'è bisogno di trovare degli eroi che giustifichino in parte questa sconfitta e quindi qui troviamo delle delle belle figure ad un certo punto porsenna arriva col suo esercito verso verso roma supera il gianicolo che ricorda il gianicolo era stato proprio reso importante con degli edifici importanti era stato annesso a roma il gianicolo il colle di là del del tevere intitolato al deogiano e ed era stato edificato e fatto da numa pompiglio appunto investe il gianicolo e sta per arrivare in roma ma per entrare in roma deve attraversare il tevere attraverso il ponte il ponte subliccio questo ponte in legno che era stato fatto sul sul tevere allora lì c'è la bellissima figura di di orazio orazio coclite orazio coclite era un discendente di quei tre di quel sopravvissuto orazio che era quei tre orazio che avevano comunque tutto con tre i tre curiazzi ai tempi ancora delle dei dei precedenti delle delle guerre tra romani e sabini e orazio coclite si chiama coclite vuol dire in latino orazio da un occhio solo perché aveva perso in battaglia un occhio è lì che che uccide tantissime etrusche stanno arrivando nel sul ponte e nel frattempo dice ai suoi ai suoi amici no di di distruggere il ponte di tagliare con le asce il ponte in modo di tagliare questa questa possibilità di entrata di di porsenna in roma e lui e lui si fa tagliare il ponte dietro le spalle sostanzialmente cade nel tevere cioè però riesce a fermare la furia degli etrusi cade nel tevere anche ferito a un anca da una lancia però riesce a nuotare e a salvarsi e diremmo ad approvare ad approdare dalla porta dalla parte di roma e qui è il primo grande eroe romano diremmo tanto che a roma dicono beh sei stato talmente grande che ti sarà concesso una una un appezzamento di terra grande quanto quella che tu potrai arare in un'intera giornata col tuo coi tuoi buoi e qui è il primo esempio di quella che noi chiamiamo virtus virtus romana cos'è la virtus la virtus è è l'unione secondo i romani ma è una cosa molto interessante che sarebbe molto utile anche che qualsiasi uomo perseguisse l'unione di virilità di forza di eccellenza morale e anche di talento militare questo vuol dire virtus no è una delle delle grandi parole chiave che dobbiamo rivedere in quando parliamo della storia romana poi por senna però non non si arrende no mette la sedia a roma e per lunghi mesi roma viene viene messa in grandi difficoltà di rifornimento non roma non 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 ha più di che mangiare no e allora bisogna fare qualcosa allora ecco qui un altro grande grande eroe della della storia romana che noi abbiamo studiato io ho studiato alle elementari no il un giovane patrizio romano tale caio muzio no il quale si veste da da soldato da soldato etrusco passa il tevere e si intruffola diciamo nella nell'appartamento nella nell'accampamento etrusco con l'idea di uccidere por senna però c'è un momento in cui si stanno distribuendo si stanno distribuendo le paghe ai soldati e vede questo persona vestita molto bene il molto ricca mente che sta andando da paghe ai soldati e crede che questo sia por senna e lo croce la sua spada lo uccide in realtà non era por senna ma era un magistrato che faceva questo questo lavoro allora viene immediatamente arrestato e portato davanti a por senna il quale dice tu verrai ucciso e dice ma a me non interessa assolutamente nulla di essere ucciso perché io anzi dice sono contento di essere ucciso visto che la mia mano ha sbagliato e anzi dice poiché la mia mano la mia mano destra sbagliato io la punisco e la brucia e mette la mano destra su un bracere che sta vardendo e la lascia bruciare completamente senza emettere un un gemito e quindi non sente nessun dolore e si punisce la sua mano che ha sbagliato por senna viene colpito da questo grande eroismo da questa grande fermezza da questo grande coraggio e dice ti rilascio perché una persona così deve essere rilasciata e mentre va via ben lungi da ringraziare por senna caio muzio che da allora si chiamerà muzio scevola che vuol dire mancino scevola perché da quel momento potrà usare solo la mano sinistra appunto muzio scevola dice guarda che però sappi che ci sono a roma anche se questo non era vero altri 300 giovani che potranno vestirsi da etruschi e che verranno al tuo capo e cercheranno di ucciderti e questo sconvolge por senna il quale poco dopo impaurito da da questi romani così da questo coraggio romano decide di andar via e di togliere la sedia a roma anche se questo gli storiografi in particolare per esempio tacito dice forse non è stato proprio così in realtà pare che por senna abbia in effetti conquistato roma però vai questo a noi non interessa quello che interessa è anche vedere alcune figure por senna secondo la tradizione secondo titolivio secondo quelli che poi hanno rivisto in senso epico mi dicevo prima la storia romana por senna si ritira e a questo punto c'è posto per un'altra leggenda romana si ritira e dice però voglio degli ostaggi voglio degli ostaggi per garantirmi che roma poi non verrà di nuovo ad aggredire gli etruschi non farà la guerra di nuovo chiusi alle altre città etrusche i romani consegnano delle delle fanciulle degli ostaggi consegnano nove fanciulle e tra queste fanciulle c'è questa famosa clelia e clelia è è un altro grande simbolo romano perché fugge da anzi no organizza la fuga delle altre nove fanciulle dall'accampamento di di por senna le e questa fuga viene nuotando attraverso il tevere lei rimane sulla sponda etrusca per garantire che loro arrivino dall'altra parte del tevere e viene poi presa viene presa e in realtà poi riesce anche lei a fuggire in ogni caso rocambolescamente e poi por senna allora si incavola come un aliena diceva io voglio che mi restituiate queste 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 ostaggi allora i romani diremo come lo vedremo dopo un'altra volta con l'episodio di attiglio regola che i romani erano estremamente digi alla parola data e restituiscono questa queste fanciulle che sono fuggite por senna colpito questo dice la tradizione dal coraggio di questa clelia che torna con a guardarlo negli occhi dice io non ho paura di tornare non ho paura di essere di essere di nuovo ostaggio tuo quello che mi interessa è che siano liberate si è lasciate libera le mie compagne la por senna colpito da di nuovo da questa grande virtù romana lascia libera lei e anche le altre nove fanciulle quindi questi episodi dell'inizio della della repubblica questo difficile inizio della repubblica ci fanno capire che in realtà è stato un momento molto difficile per roma 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 passa diremo questo c'è questo passaggio di politico che ovviamente è molto molto grave questo è stato certamente così perché le storie diremo le storie ci raccontano che che addirittura i romani hanno venduto all'asta le cose che por senna aveva lasciato tornando allontanosi da roma e qui c'è anche un'altra cosa interessante rimane proprio una tradizione normale di vendere i beni di por senna e si dice si dice così ogni volta che si vende all'asta i beni di un di un qualcuno qui si confiscano i beni e quindi potremmo dire che anche adesso quando si confiscano i beni alla mafia dovremmo dire di vendiamo i beni di por senna sostanzialmente in onore del del popolo comunque in ogni caso por senna si ritira era anche in quel tempo preoccupato dal fatto che stavano arrivando nel nord italia i galli dalla pianura padana che era in parte che era soggetta agli etruschi e quindi si ritirano e e roma riprende con grande difficoltà riprende a la sua la sua vita ma riprende la sua vita in essendo piccola non essendo più importante come prima e però riesce a vincere per esempio in questo caso una battaglia la battaglia del lago regillo che è la battaglia che dopo che roma era riuscita a liberarsi di por senna la oppone ai latini e sabini quindi questa battaglia viene vinta che questa è stata una battaglia molto difficile perché diremo il roma era ormai esaurita da da queste guerre e però questa battaglia sembra sia stata vinta a un certo punto quando tornano le schiere romane in città la gente la tradizione dice che la gente capisce che è stata vinta perché c'erano due fanciulli bellissimi no due due divinità idioscuri che avevano fatto vincere roma quindi ecco questo è tutto questo concetto allora della 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 virtù degli dei tutto che che tutto concorre diremo alla alla grandezza di roma quindi roma adesso a questo momento di di crisi questo momento di ripresa questo momento il passaggio e però si crea una struttura estremamente forte soprattutto forte al punista morale che poi gli permetterà di diventare di nuovo grande in questo momento roma è ridotta a una piccola città sostanzialmente addirittura por senna aveva detto roma deve essere non può più usare il ferro se non per l'aratro ovvero in un certo senso era stato chiesto il disarmo di roma ma questo concetto e quindi roma un po come è successo con la germania dopo la prima guerra mondiale c'era stato imposto alla generale il disarmo e analogamente roma per un po di tempo sta ferma è diventata una piccola città di poveracci poi però si riprende e diventerà la repubblica imperiale di cui incomincieremo a parlare per il prossimo episodio della nostra storia di roma arrivederci